Ciao a tutti, come scoprire se gli manchi? In alcuni casi, quando la relazione non va più per il verso giusto, quando ci sono dei problemi, quando ci sono delle tensioni, quando il pathos si è abbassato, bisogna provare a far vivere l'abbandono. Questo è un caso in cui poi dopo bisogna scoprire se manchi a quella persona. Ci possono essere invece situazioni diverse in cui tu vieni abbandonato. E' ovvio che se una persona ti lascia, in qualche modo si vive anche lei o lui l'abbandono. Per cui anche in questo caso è utile scoprire se gli manchi. Come fare nei due casi? Allora, se tu fai vivere l'abbandono perché vuoi rivitalizzare, diciamo così, la relazione, se vuoi dare un, diciamo, uno schiaffo emotivo, dare un carico emotivo, un carico tensionale, per capire poi se gli manchi, è ovvio che devi lasciare delle esche, devi lasciare delle esche logico-razionali affinché questa persona ti cerchi. Queste esche logico-razionali possono essere di diversa natura, può essere un collegamento, può essere un, diciamo, delle cose che tu devi dargli o che lei deve dare a te, insomma, qualche cosa che consenta poi di creare, diciamo, un link, un collegamento, in modo tale da poter rientrare in contatto con questa persona. Ecco quindi che il discorso di fondo è che poi l'allontanamento deve essere fatto con una scusa, in questo caso, anche qua, logico-razionale. La scusa potrebbe essere, guarda, è un periodo in cui siamo troppo stressati, questa relazione non è più appagante, è meglio che ci allontaniamo un po' e ti allontani, smettendo di cercare, smettendo di chiamare, eccetera, eccetera. Oppure un'altra scusa di altro genere, però sempre logico-razionale. Ci sono delle cose che non vanno, non ci sono i presupposti affinché questa relazione possa continuare nel modo migliore, in questo modo, è meglio che ci allontaniamo un po' e ti allontani. Ora, devi tenere presente questo, che se questa persona ti cerca entro le 72 ore, cioè tre giorni circa, si rifà viva, allora significa che hai un alto potenziale nei suoi confronti, significa che effettivamente gli stai mancando, per cui è bastato poco questo input, diciamo, che tu hai dato, questo abbandono che tu hai fatto vivere, è già servito a rivitalizzare la relazione. Ovviamente a questo punto devi far sì che il riavvicinamento sia un riavvicinamento graduale, cioè non devi consentire che subito la persona riprenda come prima, cioè devi mettere qualche piccolo vincolo, qualche piccola condizione al riavvicinamento, ma questo è già stato sufficiente per rivitalizzare la relazione. Se invece non ti cerca entro le 72 ore, ma ti cerca da 72 a 21 giorni, diciamo, da 3 a 21 giorni in quella fascia lì, allora significa che comunque hai un po' di potenziale e diciamo è stato necessario però un allontanamento, un, come dire, un abbandono, che la persona elaborasse un po' di più l'abbandono, in modo tale che poi dopo, diciamo, questo abbandono raggiungesse un livello tensionale tale per cui la persona ti ricerchi. Anche in questo caso devi porre delle situazioni, devi porre delle condizioni, dei vincoli al riavvicinamento. E in questo caso anche riesci a rivitalizzare la relazione, diciamo, in modo efficace fondamentalmente. Se non ti cerca entro in mente un giorno, allora significa che il tuo potenziale era molto basso, che l'abbandono comunque non è un qualcosa che, comunque, diciamo, da... la persona lo sente poco, probabilmente il tuo livello di coinvolgimento era abbastanza basso. Allora devi trovare tu la scusa per riavvicinarti attraverso, appunto, l'esca che hai lasciato e vedere cosa succede. Però sicuramente devi tenere presente che, anche se avverrà un riavvicinamento, però devi andare a rivedere delle situazioni perché comunque c'è qualcosa, diciamo, nell'ambito della relazione che non sta funzionando, per cui non riesci a dare emozioni, devi cambiare il tuo comportamento. Però hai fatto un test fondamentalmente. Se invece capita che sia lui o lei a lasciarti, ad abbandonarti, ad allontanarsi, è allora il modo migliore per capire se gli manchi è introdurre un antagonista. Cioè non cercarlo, ma fargli arrivare la notizia che ti stai relazionando in qualche modo con un'altra persona. Questo è l'unico modo per capire se manchi quella persona. Nel momento in cui, dopo che hai lasciato passare una ventina di giorni, questa persona capisce, e in qualche modo devi fargli arrivare il segnale che ti stai relazionando con un'altra, anche lì devi iniziare il conto, diciamo così. Se il riavvicinamento avviene entro tre giorni, quindi entro 72 ore, il potenziale comunque c'è e possibilità di riconquistarlo e di rivedere la relazione. Se avviene anche tra i 3 e i 21 giorni, diciamo che un mimo di potenziale c'è ancora e ci sono buone possibilità che un antagonista, che la presenza di un antagonista, dia la sferzata emotiva tale per riconquistare. Se non avviene entro i 21 giorni, beh, ci vuole allora, bisogna capire, diciamo, l'antagonista va sempre introdotto e bisogna capire quali sono le motivazioni, quali sono i vincoli che l'hanno portato ad allontanarsi. Qui ci potrebbero essere altre persone, ci potrebbero essere situazioni diverse, ci potrebbero essere grossi vincoli. Non è detto che la situazione non sia recuperabile, anzi, tutto è sempre recuperabile. Però bisogna elaborare a quel punto una strategia un po' più mirata. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose importanti. La prima è che venerdì 24 febbraio a Torino terrò un corso su come sedurre con le emozioni, come coinvolgere con le emozioni. Quindi venerdì 24 febbraio, ora 20.45, Torino, corso 3013, presso educatore della Providenza, il riferimento se sei interessata o interessato è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere 10 corsi gratuiti, completi, con me che potrai scegliere se fare da vivo o se fare via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao! Ciao! Ciao!